salve a tutti ragazzi bentornati alla seconda parte della segmentada andiamo avanti allora eravamo morti qua io veramente l'ho finito solo per vedere come era più avanti perché non me lo ricordavo più infatti se vedete ho emunizioni diverse da come ci avevamo lasciati solo che me lo sono voluto cioè sono voluto andare avanti per vedere se c'era un punto di salvataggio invece non me lo ricordavo proprio era tutto un unico un unico episodio solo che sarebbe venuto comunque troppo lungo quindi esploriamolo un po io non l'ho esplorato niente era andato solo avanti mi posso assicurare che ci sono dei nemici tosti molto tosti quindi ora magari andiamo con più attenzione sono saltato sicuramente tante cose ok carichiamo la pistolina intanto qua mi converrà usare il mitra per un po va a vedere la mappa io prima ero andato alla cieca vabbè un posto vale l'altro se posso vorrei non sprecare il mitra vediamo se siamo fortunati come prima prima sono stato vabbè oltre che diciamo me la sono cavata è stato anche un po fortunato eh tiriamoli no è rispostata all'ultimo allora e dai ecco qua non ci voglio perdere troppe pallottole per la pistola che è tosto dai avvicinati ok qua c'è qualcosa da prendere si un'erba gialla di modo che possiamo dirla qualcosa perchè dobbiamo cominciare poi a fare spazio per prendere i campioni di plaga ma questo è equipaggiato con l'armatura in testa quindi dobbiamo sparare al corpo ecco quel primo campione di plaga ehi guarda c'è aspettavate me e muore usiamola la pistola visto che ci sta dando un bel po' di munizioni intanto la ricarichiamo però meglio ricaricarla perchè non si sa mai quando ci può servire qua c'è una cazzo non l'avevo vista prima dove è? non vedo il pallino rosso non vedo il pallino rosso ma cosa c'è? munizioni, bene, prendile dai, avvicinati più veloce come sei te? armato? in testa? cioè armato, vabbè, protetto ti faccio fuori così andiamo a riprendere oh, un'erba rossa, bene equipaggiamola che brutti ricordi qua per fortuna in una segmentata questi qua non ci sono i regenerator prendiamo un altro campioncino di plaga munizioni, le munizioni servono un casino guarda qua, se non ricordo male, c'è un casino facciamo questo facciamolo fuori subito dovrebbero esserci due di quelli grossi che però non vedo ancora eccolo lì uno bello ma è morto a primo colpo? quello oi ma dai non pensavo che moriva nel primo colpo meglio così prima invece ci ho perso un bel po' di munizioni per farli fuori allora vediamo dove dobbiamo andare ora da qua e qua l'abbiamo preso ok andiamo di qua ok andiamo di qua ok andiamo di qua ok andiamo di qua qui è ok ok perfetto ecco cominciando ai primi guai dove mettiamo questo lo mettiamo qua e questo lo andiamo qua questo però dovrebbe starci qua c'è niente no qua abbiamo ora poi il fucile di precisione andiamo di qua allora vi faccio vedere se mi riesce come ho fatto prima vediamo se riusciamo eh no prima si chiudeva la porta anche se lui sparava rimaneva però intanto fammi caricare perché ok prima mi ricordavo che lui apriva cominciava a sparare però la porta gli si chiudeva davanti e quindi non mi poteva colpire si stava imbestialendo non poco lo faccio ma questa la mettiamo qua questa la mettiamo qua si è come se cambiasse qualcosa ok cambiamo arma qua non ho lasciato niente forse si le munizioni ma le ho prese senza accorgere addirittura oh eh no 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 non facciamo i i casinari no aspetta vediamo se riesco a scappare su ok no no ahi non è andato dai sparare ai cavolo mi hai preso eh probabilmente manca un po' la messa nel giro oh è venito di sparare no mi sa di no e allora ti facciamo finire così erba rossa bene bene eh ma non c'ho erba verde che palle ecco 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 l'erba verde quella che volevo eccola eccola ah che stupido ma ah dai non l'avevo visto chissà voi quante me ne avrete avrete dette è bravo ti pare di fare se andiamo si blocca tutto non è figurati che non venivano i i compagnieri della chanson allora intanto facciamo così ok sono morti tutti perfetto ok abbiamo ottenuto con poco il massimo bene bene così che dovrebbe essere sempre questa ci sta si allora vediamo dove ci conviene andare prima eh allora prima ci conviene andare qua ma questo lo facciamo fuori senza aprire ehi già sì ma mi stai facendo sprecare troppe munizioni eh c'è nessuno eh no eh no c'era e allora e allora sei costardo dai vieni qua ma questo è protetto ok allora me lo fai apposta ecco qua preghiamoci ecco qua un altro pezzo della plaga quanto ne abbiamo già tre e siamo anche pieni cavolo non saprei non saprei dove mettere il prossimo il prossimo plagos vabbè facciamo una cosa uso le bombe allora allora dobbiamo andare di qua allora dobbiamo andare di qua ok qua c'è un altro qua c'è un altro vediamo almeno ecco non è fatti d'altro via facciamoli fuori più velocemente possibile non sai quanti tanti possono essere che si rigenerasse la testa eh figo guardate andiamo qua vediamo oh non l'ho visto cavolo dove sei faccio solo perchè mi voglio liberare un po' l'inventario perchè c'ho troppe munizioni della pistola e figurati mannaggia cosa scarto non voglio scartare scarto una bomba che cosa vi dico questa me la uso subito no che scemo mi sembra di aver visto un'erba rossa allora qua qua ci equipaggiamo bene anche qua se non ricordo male in tutta la cavalleria eccoli cavolo dai veloce veloce perfetto no no dai ok ce l'abbiamo fatta chi è che burro ah eh sì è entrato anche in disco ora ok ok Perfetto, si è aperto la porta Olla Vedete cosa vi dico, butto l'erba gialla, tanto non ho erba verde da abbinarla Qua non c'è niente Qua non c'è niente Qua non c'è niente Eh no, c'ho questo Devo creare un altro spazio però Vabbè adesso qua usiamo le bombe perché Ce l'ho lo spazio per la plaga Non ce l'ho C'è una cosa Come le bombe mi servono Quindi la plaga è più importante Dovrebbero entrerne altri no? Beh, ce l'ho due spazi C'è solo uno Aspetta, però c'è un'erba verde Quindi Andando prima Ok, così si può fare Dai Andiamo di fare un bel cocktail di erbe Perfetto Perfetto Anche questa Perfetto Perfetto Non c'ho spazio Vabbè Allora Allora li metto a posto Di questi Della pistola Poi ce ne stanno ancora Prima che le riprendo No Allora Però lasciamo lì Che tanto ora Qua arrivano altri nemici Bene Prova ad aprire Mi sembra che entrano Ah no Devo sbloccare Che scemo Mi aspettava ancora Qua cosa c'è? Qui là Inizioni Prendiamo dopo Se ce la faccio Eh Ah Inizioni Eccoli che arrivano Intanto prendiamoci Queste ammunizioni Intanto Gusto per Mi aspettiamo qua Che almeno Siamo Coperti dietro Non è andato Ce ne dovrebbe essere Un altro Ecco noi Perfetto Almeno non mi hai dato Manco filo da torcia E Incompensacelo Dietro Che 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 Eh Que Che 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 palle Eliminiamo la pistola che non mi servono Abbandona, si abbandona tutto Questa è sempre la pistola Vabbè intanto se mi arriva a prenderlo Ok Perfetto, siamo alla parte finale mi pare Quindi qua C'è il nostro amico Speriamo di farcela Che tosto eh Dai sei bravo Palle che sei però Mannaggia E stai bravo Sì, ma fregato Ma levate anche un botto Mamma mia che noia quando fa così Non 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 Se ci vogliono ancora Ok Mi sa che lo abbiamo battuto Perfetto Abbiamo anche L'ultimo campione della plaga Non Non ci abbiamo più munizione Ok Poco importa Andiamo Con tutta la vita disponibile Posso rompere? Posso rompere? Sì Però non possiamo entrare Non capisco perché alla fine Ah ma quella roba lì me la dava semplicemente perché Durante lo scontro con Krauser mi sarebbero potute servire Ok Azioniamo Un Functual Genre I like that. Is Krauser there? He's dead. Pity. But after all, just another expendable grunt. Thanks to you, however, Umbrella's one step closer to its reestablishment. And once it is, there will be significant changes in our world. Perfect, guys. We finished the segment ADA. See you in the next game. I don't know if we can do separate ways or change the game. If you liked the video, give a thumbs up, comment, share it, and subscribe to the channel. Ciao, ciao, guys. Ciao. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Grazie a tutti.